In una giornata torrida, con una condotta di gara attenta e precisa, lo stresa Baveno blocca il gozzano. Poche le emozioni in una gara condizionata da caldo, ma con buoni ritmi di gara finita 0-0. Negli ospiti il più pericoloso ed anche unico è stato Infantino. Suo il tiro al ventunesimo minuto, salvato sulla linea da Pizzi. Al quarantesimo minuto, sempre... Sagra della patata! A Monte Crestesi, da giovedì 22 a lunedì 26 agosto, la trentesima edizione. Tutte le sere, dalle 18.30, apertura del ristorante con servizio ai tavoli. Spettacoli, danze e spazio giovani. Ti aspettiamo!